buongiorno a tutti siamo qui con una lettura assolutamente a sorpresa ed è un premio che voglio farvi perché innanzitutto vi devo ringraziare perché il canale sta crescendo a vista d'occhio e poi soprattutto perché il sito il sito alessandra barbieri.com sta funzionando benissimo io vi ringrazio volevo proprio ringraziarvi per questi risultati e volevo chiedere anche a tutti coloro che stanno usando i codici ovviamente i codici se non avete mai fatto nessun tipo di lavoro potrebbe non vedersi subitissimo risultato magari si inizia a vedere al secondo codice o via di seguito quando iniziate a vedere dei risultati a rendervi conto che effettivamente stanno producendo dei risultati vi chiedo gentilmente di scriverci cosa è successo in maniera tale che noi effettivamente possiamo capire non ho dubbi sul fatto che funzionino perché oramai io invece li sto usando sul con le persone da abbastanza tempo per sapere che funzionano il punto è capire come le persone che non hanno lavorato con me personalmente riescono a percepire o meno il funzionamento del codice quindi io vi voglio ringraziare innanzitutto e quindi vi voglio regalare una lettura a sorpresa una lettura sul proprio oggi che è il l'equinozio di primavera quindi il 21 ho fatto ieri il il video con il rito per l'equinozio di autunno scusatemi anche ogni tanto l'equinozio d'autunno e ieri ho fatto il video con l'equinozio d'autunno e oggi vi voglio ringraziare e omaggiare di questa lettura interattiva di che cosa ci porterà questo equinozio a livello di soldi lavoro e lo vediamo con le sibili con le sibille e poi a livello di amore quindi vediamo quello che questo equinozio muoverà a livello di soldi lavoro e a livello di amore quindi un lo faccio tutto quanto faccio solo due varianti quindi abbiamo la nostra campana tibetana e la nostra campanella e andrò diretta quindi cercate la vostra variante terrò da parte solo quella che stiamo leggendo quindi vedrete se si tratta della campanella o della campana tibetana scegliete vi do il tempo di scegliere la variante la variante 1 è la campana tibetana la variante 2 è la campanella quindi prima leggerò la campana tibetana e poi leggerò la campanella ripeto soldi lavoro quindi faremo la doppia lettura quindi sia a livello di soldi sia a livello di lavoro cosa sta accadendo e cosa accadrà e infine avremo anche un oracolo che ci dà dei consigli e adesso andiamo scusatemi che ho toccato il treppiede portate pazienza allora sposto la campanella in modo tale che possiamo cominciare la nostra lettura della campana tibetana e così non facciamo confusione rispetto cosa dobbiamo vedere e cominciamo con la nostra campana tibetana che metto qui così la vedete che è in lettura ok cominciamo con soldi e lavoro wow questa è una runa di cambiamento aspetta che ho fatto eccola qua allora centro wow partire con i topi in centro wow vuol dire che in centro molto probabilmente soldi e lavoro in questo momento non sono esattamente in una situazione meravigliosa adesso capisco la runa la runa la runa dunque molto probabilmente siete arrivate da un periodo in cui la vostra economia non è esattamente delle migliori economia barra lavoro o non ce l'avete o se ce l'avete non state guadagnando quello che volete o non siete soddisfatti quello che è quindi centrale c'è proprio il problema fra virgolette della ma proprio anche del poco io qui ci vedo anche veramente una questione economica un pochino tiratella tirata difficile molto difficile allora intanto andiamo a vedere subito le due le due laterali che portano che portano in questa diagonale che sono il giglio e infine abbiamo il i pesci quindi l'abbondanza quindi sicuramente è questa runa che appunto è una runa che parla di cambiamento del giorno che passa alla notte o della notte che passa al giorno quindi quello che ho vissuto finora cambia e diventa qualcos'altro e anche le stelle ce lo viene a raccontare molto probabilmente un incontro che avete fatto che non è ancora o avete fatto una un colloquio di lavoro che non vi hanno ancora chiamato non si è ancora costruito niente oppure avete incontrato delle persone state svolgendo dei lavori ma non avete ancora visto il risultato del vostro lavoro tra un pochino invece il risultato arriverà quello che però vi posso dire che non sarà visibile subito è un risultato che arriva tra un pochino di tempo c'è un po di tempo da attendere non si vedrà subito e qualche difficoltà da attraversare nel mentre questo però vi porterà all'abbondanza perché i pesci parlano proprio d'abbondanza insieme a questa runa che appunto è d'agaz che ci dà il passaggio dalla notte al giorno e le stelle che ci dicono proprio di un sentiero che ci porta verso la nostra via abbiamo sicuramente la possibilità di vedere di vedere il risultato di quello che stiamo facendo non semplice non semplice per tante ragioni in primis perché appunto non si vede subito potrebbe essere un lavoro che ha a che fare con internet perché gli uccelli parlano di comunicazione quindi c'è un qualcosa che state costruendo perché la torre nelle normande non è equivalente alla torre dei tarocchi è un qualcosa che state costruendo molto probabilmente oppure vi siete un pochettino arroccati su delle situazioni però ma con l'anello vicino e sotto le stelle mi viene da dire che è un progetto che state portando avanti che state costruendo arrivate ripeto da una situazione non esattamente non delle migliori ma questa vostra progettualità vi porterà effettivamente all'abbondanza un pochettino di pazienza perché non la vedrete subito e soprattutto ci sarà qualche problemino con qualcuno qualche piccola qualche piccolo inconveniente basta direi che qui siamo è abbastanza chiara su per quanto riguarda i soldi quindi i soldi a scindere dal lavoro li aspettate da qualcuno questa potrebbe essere una stesa una lettura dove per esempio avete prestato di soldi che non vi tornano indietro anche questo potrebbe essere e può essere che dopo dei conflitti in realtà ritornino a voi oppure delle degli investimenti che avete fatto e che non che inizialmente insomma non sono andati bene poi dopo un periodo un po' traballante tornano ad essere per voi benevole insomma delle situazioni anche il discorso banche o eventuali finanziamenti o eventuali finanziatori o cose del genere quello che inizialmente sembrava arenarsi e non trovare una magari anche trovare delle difficoltà burocratiche poi però alla fine va quindi questa è una lettura positiva chiudo per quanto riguarda lavoro soldi e andiamo a vedere per quanto riguarda l'amore amore qui ho fatto ho messo più abbiamo usca abbiamo sono molto in antitesi queste sono piuttosto in antitesi allora andiamo a vedere con i nostri tarocchi di marsiglia e poi ci metteremo io le metto tutte dritte qui a non sto a fare allora io queste le avevo già mescolate però le rimescolo di nuovo e ci mettiamo sotto una spiegazione allora qui molto probabilmente c'è un incontro già fatto che da subito sembrava un qualcosa di molto molto bello o c'è qualcuno che conoscete insomma qui c'è qualcosa che si è arenato e non si capisce dove deve andare fondamentalmente vediamo un attimino allora nell'amore qualcosa che prima andava bene si è in qualche modo incagliato ed arenato qualcosa che sembrava tra l'altro portare a a una concretezza una realtà qualcosa di molto buono che sembrava appunto portare una concretezza una realtà ma qui si sono trovati dei disaccordi in realtà c'era molto probabilmente c'erano delle difficoltà fin da subito delle difficoltà personali però mi viene da dire molto personali e qui la cosa si è affermata molto probabilmente per mano della donna quindi la situazione sia un po bloccata per magari anche delle perché la donna magari potrebbe dire non mi va quello che mi stai dando però alla fine quello che vedo è che abbiamo effettivamente una situazione in evoluzione lenta molto lenta questa è una situazione che ci porta a dover avere una grande pazienza c'è un'evoluzione allora o è un incontro che è stato fatto da poco che sembrava fosse una cosa dove c'era un interesse fin da subito ma si è arenato praticamente subito oppure una situazione che esisteva precedentemente e che poi si è arenata che pareva dovesse portare in qualcosa di concreto e che poi si è arenata che arriverà effettivamente a trovare una nuova una nuova spinta ma qui si parla di tempo quindi quello che vedo è che effettivamente è una situazione che evolverà nel tempo vi ricordo che siamo in una situazione di equinozio dove è importantissimo infatti qua chiede la bea qui ci dà il consiglio della beatitudine è prima di ogni cosa è lo stato primario ove dio esiste da nulla si fa turbare e infatti è un po quello che mi viene da dirvi questa è una situazione non è una situazione negativa ma è una situazione che necessita di tempo per trovare la sua soluzione necessita di tempo ma soprattutto necessita che voi non facciate nulla questo è il punto che qui non c'è un'azione che voi dovete fare se non quello di rimanere fedeli a voi stesse o voi stessi cioè qualunque cosa abbia fatto sì che questa situazione si sia arenata è perché è perché voi volete questo tre di denari voi volete il vostro giusto valore quindi siete una donna volete che vi si dia effettivamente il valore che vi si dia la concretezza la stabilità e tutto quello che ci sta dietro siete un uomo uguale volete che la persona venga da voi con serietà con voglia di costruire senza voler perdere tempo quindi probabilmente qui avete messo voi un freno e un blocco o state mettendo voi dei freni e di blocchi perché in realtà la passionalità c'è non è che manca però poi si va verso la separazione verso la luna perché tutto questo perché voi volete il vostro lavoro il vostro valore e vi ripeto vi ricordo che questa che questo equinozio è esattamente quello che vi sta chiedendo non cedere rispetto il vostro valore rispetto ciò che voi sapete di poter ottenere quindi fate benissimo a rimanere nel vostro lasciate che il brodo continui esattamente così com'è e vedrete che alla fine arriverà il risultato quello che volevate voi proprio quello che volevate voi su una vostra scelta cioè quella di rimanere ferme di non muovere nessun passo di non dire niente di non agire voi lasciate che sia l'altra persona a portarvi la coppa perché lo farà bene visto questo andiamo a vedere la seconda variante quella della nostra campanella mettiamo in parte i nostri tarocchi le nostre le norme e portiamo qui la nostra campanella eccola qui allora cominciamo con la runa i soldi e il lavoro la runa e da ragazzo scusate tu risate hanno perché sto mescolando le ho già mescolate ferma tutta turi sazza allora 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 se stiamo parlando di lavoro qui evidentemente si parla di una problematica tra colleghi di lavoro o tra soci o quello che è dove effettivamente c'è una difficoltà da un lato c'è un qualcosa che va che vado c'è c'è una situazione che comunque è concreta e va da sé da un lato però ci sono delle inimicizie c'è la la come dire il lavoro va ma il problema non è il fatto se va o non va in lavoro il problema è sono le relazioni tra le persone sono le relazioni tra le persone però turisaz vi sta chiedendo di chi è il problema è effettivamente l'altro il problema o sei anche tu che stai combattendo un nemico che in realtà hai dentro perché questa è una domanda che forse è il caso che vi facciate qualcuno qui dirà ma cosa stai dicendo tu sapessi cosa ha fatto questo quello quell'altro però turisaz ci mette in confronto con noi stessi quindi questa è una domanda che vi faccio qui quello che vedo è che ci sono delle situazioni conflittuali una persona è sicuramente a vostro favore anche un'altra molto probabilmente ma ce ne sono altre che invece hanno delle tendenze un pochettino più egoistiche e soprattutto meno come dire dove tendono a vedere più quello che voi non fate che quello che invece state apportando al lavoro comune quindi nel lavoro ci sono effettivamente delle dinamiche delle problematiche rispetto un po' di invidia rispetto un po' di chiacchiere un eccesso di chiacchiere un eccesso di cose che non fanno bene perché ripeto c'è qualcosa che dà fastidio al livello di relazioni quello che mi viene da dirvi ripeto è di chiedervi fino a che punto però voi potete mettere mano a questa situazione qua perché molto mi è successo un po' di tempo fa che una ragazza mi veniva sempre con la stessa dinamica che le si ripresentava nel lavoro ogni volta che cambiava lavoro aveva la stessa dinamica io le ho detto ma sei sicura che non sia una dinamica tua interna lavorando sulla sua dinamica interna effettivamente abbiamo visto il miglioramento e lei finalmente adesso riesce a stare in un cioè dopo anni e sono anni che che stanno nello stesso posto senza cambiare di nuovo lavoro perché andava via dalle problematiche con i colleghi ecco mi viene da farvi questa domanda perché questa runa ci mette un pochettino in allerta se invece siete di fronte a una questione di soldi attenzione che quello che mi viene da dirvi occhio se vi hanno detto di fare dei degli investimenti state attenti perché probabilmente se vi va bene ne guadagnate pochi se vi va bene punto quindi non è una situazione questa dove migliorare cioè dove pensare di fare degli investimenti se gli investimenti li avete già fatti e sperate che arrivi che che arrivi quello che voi volevate sappiate che arriverà ma arriverà in minor quantità rispetto a quello che voi avevate previsto di prendere rispetto questa questa situazione qui economica quindi qua stiamo parlando di soldi quindi in questo momento nel prossimo futuro non vedo grandi possibilità di guadagno economico con quello per la quale state guardando per il lavoro è più una dinamica di tipo personale anche per quanto riguarda i soldi con una turisaz chiede cioè questa runa chiede non è che sei stata avventata o avventato nell'investimento punto di domanda perché questo è un po quello che questa runa ci mette davanti andiamo a vedere i sentimenti d'amore per questa variante gioco d'amore nuovo amore ah qui arriva nuovo amore bene wow beh insomma qui andate bene qui andate bene ragazzi un bel colpo di fulmine da quel che vedo aspetta che vediamo questo dopo però mettiamoci sotto anche e arriva un nuovo amore qui siete un bel colpo di fulmine tra l'altro che va subito verso una concretizzazione c'è subito un qualcosa che vi porta verso un qualcosa che vivete allora voi credo che abbiate avete vissuto però qualcosa di non particolarmente simpatico prima di questo momento qui perché questa variante denota una vostra cioè da un lato un desiderio da un lato una voglia e anche un lasciarsi cullare da questo nuovo amore da un lato però c'è una vostra profonda paura di e quindi anche se arriva qualcosa che allo stato attuale sembra subito una cosa interessante voi avete un pochettino la tendenza a rimanere a rimanere a guardare a dire sarà veramente un qualcosa di interessante oppure sarà l'ennesima fregatura attenzione a questo andiamo a vedere un pochettino un po' come a dire abbiate fiducia io ci sono io ci sono quindi qui mi viene da dirvi abbiate fiducia abbiate fiducia perché insomma questo vostro questo equinozio vi porta una novità almeno in campo sentimentale e vi sta dicendo però vedete che ancora mi torna questo turisazzo un'altra volta perché come prima nel lavoro mi si chiede si chiede che cosa è che impedisce al lavoro di andare bene anche qua vi arriva un'opportunità però voi avete paura turisazzo siamo di nuovo con il mio nemico sono io quindi fate attenzione a non rovinare quello che magari potrebbe essere bello per paura che possiate soffrire ancora capisco benissimo giustamente non buttatevi però almeno evitate di rovinare ciò che potrebbe funzionare quindi date almeno una possibilità bene spero di esservi stata d'aiuto in questo momento che questa lettura vi sia piaciuta che in qualche modo quello che vi ho detto possa aiutarvi anche a trovare spunto di miglioramento per voi stessi mettete il like nel canale se ne avete voglia e vi ricordo che io non faccio solo letture interattive ma facciamo anche dei video di crescita personale che sono molto importanti per capire anche il senso e il perché delle cose che accadono vi aspetto alla prossima interattiva e vi aspetto anche domani che abbiamo il nostro video di esoterismo grazie